Ciao a tutti, sono Elisa Pilotti del Drum Club di Genova. La volta scorsa abbiamo parlato dei fraseggi lineari nell'ambito del quattro quarti. Abbiamo detto che le frasi lineari hanno come caratteristica di avere degli incastri tra mani e piedi. Oggi vorrei farvi degli esempi utilizzando queste frasi lineari in tempo dispari come il 7 ottavi. E avrò lo stesso metodo di lavoro, cioè pensando di avere 14 silicesimi, cercherò di ottenere questo numero 14 dalla somma di determinate cellule numeriche. Ad esempio 3 più 5 più 6, oppure 5 più 5 più 4 e così via. Penserò le cellule dispari con un colpo di cassa finale e le cellule pari con due colpi di cassa finale. Ve le riepilogo tutte le possibilità. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi abbineremo queste cellule fino ad ottenere il numero 14 ed ecco che avrò il mio fraseggio nell'ambito del 7 ottavi. Il primo esempio che vi farò è 3, 5, 6. E in ogni caso? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.